Una reunion degli Avion Travel, gli Elio e le storie tese, Pierpaolo Capovilla, Emis Chilla e Joseph Arthur. Questi alcuni dei nomi che calcheranno il main stage dell'edizione 2014 di Arezzo Wave, di scena dal 17 al 21 luglio prossimo ad Arezzo. Sulla location, per ora nei comunicati stampa, resta quella di Villa Severi. Si attende però il parere della soprintendenza. Mauro Valenti tiene a specificare che la parte monumentale del parco sarà interretta alla manifestazione e le auto, tranne quelle degli addetti ai lavori, saranno off-limits. È logico che sono disponibili a dare tutte le informazioni del caso. Noi andremo a fare il festival in un'area che è abitualmente adibita a fare queste cose. Quindi presumo che giustamente la soprintendenza abbia l'esigenza di conoscere questo. Noi tutto quello che abbiamo detto ai sponsor è relativamente a Villa Severi. Senz'altro. La visione di Via Entrave è una cosa bellissima perché veramente si rifondono e faranno una cosa. Loro sono sia musica ma anche teatro, ma anche una parte della canzone italiana. Sicuramente è una delle cose più importanti nella storia della canzone italiana. Hanno vinto Sanremo, sono stati con noi a New York, al Mide Macan, sono stati al festival più volte. Oggi mi interessava valorizzare l'aspetto diciamo culturale giovanile dell'evento. Oggi Valenti ha presentato appunto il programma del festival che credo sia la cosa più importante. Accanto a questa è evidente che c'è da prendere in assoluta considerazione, questo il sindaco l'ha già detto sabato mattina, la lettera che ci ha inviato la sovrintendenza che vuol conoscere dettagliatamente il progetto del festival e quindi quanto appunto l'evento impatterà sul parco di Villa Severi, in cui nei prossimi giorni la sovrintendenza riceverà dalla fondazione tutte le informazioni del caso e poi procederemo. È altrettanto importante, questo l'ha detto il sindaco e lo confermiamo noi, mantenere un confronto con il comitato di cittadini che si è opposto e che si sta opponendo a questo evento, un confronto costruttivo perché credo sia possibile assieme al comitato collaborare per l'ottima riuscita di questo evento. Un evento che come ha detto Valenti questa mattina è fortemente ridimensionato dal punto di vista del rumore ma è assolutamente rilanciato dal punto di vista della qualità della proposta.